Il GFM è in grado a oggi per via di un fatto che il presidente Radio France domanda un'economia di 20 milioni d'aori all'università nazionale. Quindi, per lì ci sono posti di noi che possono essere cacciati, come un po' sugestione, il budget di CDD può essere inutoccato. Quindi, per noi è impossibile che la radio di servizio pubblico in corso sia toccata come la da essa ora. Quindi, a Mossa è importante, il principio di oggi sarà continuato in settimana, ci devono essere a dare Mossa perché hanno bisogno di via di 20 milioni d'euro per arrivare a una radio che non sarà più a radio di servizio pubblico che abbiamo connesso di un anno.